Questo è un video, faccio anche il video io, andiamo di qua C'è anche il maestro Agnussi, come stai? E' sempre il maestro, ciao! E la panca, non c'è il prezzo E queste parte ma le guardate è un giro, mi pregge Ma io lo ho, non c'è il prezzo E quello che ha il prezzo? Ma ma sta a virocia e marca Ma sta a rottura Ma è tutto, non è tutto E' tutto Come stai? No, sono solo studi Un'incitamento, di quadra perché credo che questo Sì, sì, no, grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti